fine va bene come studio? si, si o no? però il problema è quando esci di fuori eh, quando esci che fai dopo? ci vorrebbe una tuta antitomica ah, Matteo c'è qua che vai avanti e meno di fantasia se arriva moremo e via chiudi la porta attiva l'allarme, dai Matteo vi aspetta stasera ciao ciao Matteo ciao devo andare a mangiare poi ce l'ho da fare dopo il pranzo zippa di più, non sta a pensare all'atomico zippa pensa alla figa ma pensa alla figa no domani che mori grazie a tutti